Ciao ragazzi, benvenuti nei miei tutorial, io sono Vittorio Silinio e oggi vi volevo spiegare la bodyweight laterale. Ok, prepariamoci, mettiamo le gambe leggermente divaricate e ci mettiamo piegati. Qui, prima spostiamo il peso del corpo da alluce a mignolo, dondola, ok, qui, perfetto, fatto questo abbiamo capito come funziona. Adesso mettiamo tutto il peso sulla nostra gamba sinistra e vi date soltanto il bacino che si sposta a destra, 4, e le spalle ferme, 3, 2, ora ferma il bacino, solleva la spalla, su e rientra, su e rientra, su, stendo la gamba e porta la spalla su in diagonale, stop, stessa cosa due volte, vado, 2, torno, due. Ok? Una volta sola, vado, 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 vado e vado. Mezza, vado, la, torno, la, vado, la, torno, la, vado, la, torno, la, porta sulla spalla e scendo giù. Mobilo, 7, 1, boom, 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 e stop. Ci siamo, stessa cosa dall'altra parte, gambe leggermente divaricate, piega le gambe, il bacino verso sinistra, su 4, 3, 2, ferma il bacino, la spalla, stendo la gamba, sollevo la spalla, 4, 3, 2, e giù, giù 2, su 2, 1 e 1, uno sotto e uno sopra, uno sotto e uno sopra, mezzo, vado, sollevo la spalla, torno indietro, sposto il bacino, vado, sollevo la spalla, torno indietro, sposto il bacino, vado, sollevo la spalla, torno indietro, sposto il bacino, vado, sollevo la spalla, torno indietro, fluido, l'ultimo, ok, prima di provarlo con la musica vi spiego una cosa, quando fate la wave, la body wave laterale a scendere, ci sta una piccolissima circonduzione con la spalla, ok, allora, vai su, quando scendi porta la spalla dietro e poi sgonfia, là, ok, questa è una cosa che si può aggiungere anche dopo, quando hai preso dimestichezza col movimento, bene, DJ mettici la musica che lo apriamo tutto, dai, stessa sequenza, sono a te, 4, 3, 2, e, sulla spalla, e ragazzi, giù due, su due, uno e uno, vai, mezzo, buono, buono, provo, con i fili che ho spiegato all'inizio, e con la spalla, che ho spiegato la fila, ultimi due, ultimo, stop, dall'altra parte, spalla, spalla, e ragazzi, vai così, più alto che è possibile, giù due, su due, due, uno e due, 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 o Damit c'è la folk sei 하지. ecco si adesso poi sono ti credo i Bene, ricordatevi, come dico sempre alla fine del tutorial, se vuoi far sì che il movimento sia tuo e lo possa ballare liberamente senza stare a concentrarti, devi praticarlo, praticarlo, praticarlo. Ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!